Saluto a tutti ragazzi e oggi, per la prima volta, ci sarà Nord contro Sud, tre vieni! Ma c'è l'agura! Io sono nella Sud con Vincenzo e Savonetta, nell'altra che è Lorenzo Manfredi. Facemmo un burde! Un nuovo ospite, Manuel e Michael. La metto in mezzo, quando la facciamo crema e dovremo andare in lingua! Il primo che arriva a 10 vince! Puta madre! Ti puoi mischiare! Sono sassi! Dai un po'! Eeeh! Ho visto tanto! Non c'è l'ho possibile! Non ce la mancherò! Ma è vero? Oh vabbè, in fronte a me! È pieno, bravo! SIGO! 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 è mia madre, non è mia croce calma, 1-0 nostro basta stira doppietta signori doppietta ripletta di sacco no, no, no sì, ma questo fa le triplette a cazzo di calo uno, uno dal nord io ti ho fatto tre volte la madonna tre a uno oh ma sta partita oh ma sta in porta oh ma sta in porta oh ma dovete mettere oh ma la vostra porta appunto oh ma la nostra oh sta in porta gol den gol chi segna fra nord e sud e vince che incidente di cammo si può ripartire gol den gol no 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 è buona tua mamma salute oh ma io deploglia deploglia la ploglia qua 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 faccia la porta vuota sto qua distanza distanza continuanza defix Miami guarda stanza 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 mi stanno stanza non è grazie scuola quindi amore direi guarda 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 è stata chiaramente una partita di merda è 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 chiaramente una partita di merda